Quello che vi sto per dire oggi è veramente molto grave e per questo mi auguro che le autorità competenti sia in campo sanitario che a livello giudiziario ascoltino questo video e facciano immediatamente una verifica. Allora, che cosa è successo oggi? Guardate bene. Il sindaco di Udine, Piero Fontanini, sul profilo Facebook del Comune di Udine, dichiara testualmente. Questa mattina, assieme all'assessore alla sanità Giovanni Barillari, che è un medico dell'ospedale di Udine, ho incontrato il direttore generale della QUETE, Salvatore Guarneri, che ricordiamo è amministratore delegato del senatorio Tristino e di molte altre realtà regionali, quindi persona che ha diversi incarichi ed è raramente, raramente alla QUETE, pur ricoprendo l'incarico di direttore generale e di direttore sanitario. Ebbene, dice, ho incontrato Guarneri davanti alla sede della Residenza di Via Sant'Agostino per fare il punto sulla situazione relativa al coronavirus. Attenzione adesso, vi prego, dal colloquio è emerso che ad oggi nessuno tra i pazienti e gli operatori è risultato positivo ai tamponi che vengono effettuati e ripetuti, al fine di controllare un'eventuale manifestazione successiva della positività. Questa è davvero una bella notizia. Bene, ripeto, lui dice che dal colloquio è emerso che ad oggi nessuno dei pazienti e degli operatori è risultato positivo ai tamponi che vengono effettuati e ripetuti. Qual è la notizia? Che gli operatori smentiscono categoricamente di essere stati sottoposti a dei tamponi di controllo. Quindi gli OS dicono noi non abbiamo fatto alcun tampone di controllo a livello generale. Se poi qualche OS l'ha fatto individualmente per problematiche di sospetto di contagio, un altro discorso. Ma non c'è stata un'attività di monitoraggio all'interno. Per quanto riguarda gli ospiti è stato fatto un tampone, non è stato fatto ripetutamente un tampone. Oltretutto, cosa molto grave che gli OS dichiarano è che lavorano a tutt'oggi sprovvisti di presidi. Non hanno mascherine, hanno avuto solamente oggi alcune mascherine, quindi le hanno avute solamente in data odierna alcune mascherine che non sono le mascherine necessarie, ma fino ad oggi non le hanno avute. D'accordo? Quindi ricordatevi che il sindaco Fontanini e l'assessore Barillari hanno detto una cosa assolutamente non vera. Io prego le autorità competenti di verificare se entro la data odierna, cioè entro oggi, sono stati fatti i tamponi. Basta fare una verifica presso l'azienda sanitaria. Chiedo al dottor Caporale, già affetto di coronavirus, direttore sociosanitario dell'azienda, e chiedo al dottor Luigi Canciani, direttore del distretto sanitario, di rispondere immediatamente a questa domanda. Se gli operatori della quiete sono stati controllati ed è stato fatto loro un tampone, se gli operatori hanno fatto il tampone io mi assumo la responsabilità di aver detto una bugia. In caso contrario saranno loro ad assoluti la responsabilità di aver detto una gravissima falsità. Non aver fatto i tamponi agli operatori non solo mette in rischio gli operatori stessi, ma mette in rischio di contagio anche i pazienti che sono dentro, così come è successo nelle altre case di riposo dove sono coloro che vengono dall'esterno che portano i virus. Altra cosa molto grave, nonostante quelle facce da sola dei consiglieri regionali si riuniscano in videoconferenza durante il prossimo Consiglio regionale per non contrarre il virus perché hanno paura, viene quotidianamente imposto al personale OSS della quiete di effettuare dei corsi interni con 30 di loro alla volta e senza mascherine. 30 di loro alla volta, a distanza ravvicinata e senza mascherine. Allora vi rendete conto di che cavolo di realtà stiamo vivendo? Vi rendete conto di che sindaco abbiamo? Vi rendete conto di che opposizione quasi sia di sinistra abbiamo? Se questi sono i comunisti, benvenga che non ci siano più. Se questa è la Lega, benvenga che la Lega sparisca. La gente ne ha le palle veramente piene, va bene? Ne ha le palle piene e sta rischiando veramente la vita. Sta rischiando di morire, siamo chiusi in casa per colpa di questi netti che prendono 12.000 euro al mese. Una vergogna totale.